Austera cerimonia militare all'aeroporto di Ciampino, alla presenza dei giovanissimi della classe 1918 e dopo la rivista passata agli apparecchi ed epifaggi degli stormi da bombardamento e da caccia, sono state consegnate le ricompense al valore agli appartenenti alle forze aeree della terza zona, tra i quali è il capitano Bruno Mussolini, decorato di medaglia d'argento al valore militare e di uguale ricompensa al valore aeronautico.